Si stringe a tavola in un pranzo che si è consumato a Capitello, frazione di Spani, nel golfo di Policastro il 7 agosto del 2019 tra Raffaele Diana e Luigi Cardiello. Entrambi concordano un progetto finalizzato allo smaltimento di rifiuti e la necessità di individuare nuovi siti di stoccaggio facilmente raggiungibili dai camion proprio nella regione Basilicata. L'indagine Shamar che ha consentito ai carabinieri del comando provinciale di Salerno di fermare un disastro ambientale per il Vallo di Diano nasce proprio dalla captazione di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra Luigi Cardiello e Raffaele Diana nell'ambito di un'altra inchiesta, quella sull'oro nero nel Vallo di Diano, che sempre ieri ha visto i carabinieri al lavoro per fermare un illecito sul commercio di idrocarburi che ha consentito di fruttare alle attività criminali guadagni vicini ai 25 milioni di euro. Ma l'operazione Shamar ha invece avuto un altro valore. Ha fermato un disastro ambientale, lo sa bene anche il comune di Atena Lucana, che ha deciso di costituirsi parte civile nel processo a carico delle sette persone arrestate. Al centro dell'inchiesta c'è Luigi Cardiello, soprannominato Remmida, già coinvolto in altre inchieste ambientali come la stessa Remmida, Cassiopea e Cernobil. Nel corso del pranzo con Raffaele Diana i due parlano di 200 ettari di terra situata in Basilicata e in particolare a Tursi di proprietà di un amico di Cardiello, ma anche la sua agevole raggiungibilità per la presenza di una superstrada e la facilità nell'ottenimento di finanziamenti necessari per realizzare il progetto. Essi vantano nella conversazione sul tema rifiuti. Diana ricorda con orgoglio che non si muoveva un chilo di rifiuti per tutto il mondo se non decidevano io e lui, è vero questo no domanda. Quando inizia l'attività nel Vallo di Diano, Cardiello condatta un autotrasportatore per trasferire sei botti, gli fa credere in un primo momento che si tratti di acqua fertilizzante con concime. L'uomo però comincia a nutrire dei dubbi quando, versando i liquidi, avverte una forte puzza di diluente, ragione per la quale comincia ad avere paura. Il liquido ha anche rimosso uno strato di vernice superficiale del camion da qui i suoi sospetti e l'invito da parte di Cardiello di realizzare un buco a 50 metri dalla casa per sotterrare tutto. L'uomo però, impaurito dalla pericolosità del materiale, si rifiuta. In alternativa gli viene proposto di versare quei liquidi all'interno di una fognatura senza sbocchi nel centro sportivo di San Rufo o in un deposito nella zona industriale di Polla. Il giudice ha ritenuto considerabili, pienamente credibili queste dichiarazioni, che sono state anche confermate dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione dell'uomo che ha immortalato le fasi della ricezione e dello sversamento delle cisterne. Le analisi tecniche hanno permesso di ricondurre liquami contenuti nella categoria dei rifiuti speciali pericolosi ed hanno anche imposto che sarà necessario fare una bonifica dei terreni. Grazie. 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 Grazie.